Sarà dedicato a Giulia Cecchettin e a tutte le donne vittime di violenza il concerto per Bruno Maderna in programma per domenica prossima nel Salone dei Concerti del Conservatorio Nicolini di Piacenza. L'esibizione inizierà alle ore 10.45 a ingresso libero e rientra nell'ambito dei concerti della domenica nel Nicolini. Sarà un omaggio al grande compositore italiano nel cinquantesimo anniversario della morte. Abbiamo pensato di dedicare il concerto di domenica a Giulia Cecchettin e a tutte le ragazze e le donne per sostenere questa campagna che non può essere di un giorno ma deve durare sempre contro la violenza nei confronti delle donne. Siamo convinti che questa dedica speciale e particolare aiuti a capire il valore che la musica può avere nell'educazione anche ad ascoltare i propri sentimenti e i propri affetti e quindi a combattere questo analfabetismo affettivo ed emotivo che è uno dei grandi problemi che attanaglia la società di oggi e che purtroppo si manifesta attraverso anche questi fenomeni che sono le violenze nei confronti delle donne. È un concerto quindi dedicato non solo a tutte le donne ma in modo particolare alle studentesse e agli allieve del Conservatorio Nicolini. Durante il concerto interverrà anche lo psicoterapeuta Antonio Mosti. Abbiamo il privilegio di avere come ospite il dottor Antonio Mosti, uno psicoterapeuta che ha lavorato a lungo con i giovani e lui appunto è stato invitato per una riflessione su questa difficoltà dei giovani che hanno a relazionarsi nei rapporti anche affettivi sia perché purtroppo nella nostra epoca i giovani vivono una difficoltà ad accettare la negatività ad accettare le situazioni difficili della vita sia perché soprattutto in seguito all'emergenza pandemica del Covid che ci ha visto tutti chiusi in casa e a relazionarci soltanto attraverso il computer e il telefonino hanno fatto poi fatica a riprendere una socialità in presenza con i loro coetanei, con i loro amici e anche in generale con il mondo esterno e questo spesso ha generato grandi difficoltà relazionali. Grazie